Arrestati dalla Polizia Stradale di Firenze dopo un lungo inseguimento in A1, tre veri professionisti del crimine malviventi originari di Napoli con aderenza nelle zone di Scampia, con alle spalle non solo furti ma anche contrabbando di sigarette e spaccio di droga. Un mese fa ci avevano riprovato quando due della stessa banda erano stati sorpresi di notte da una pattuglia della Polstrada di Orvieto a bordo di un furgone riempito di attrezzi da lavoro trafugati tra Firenze e Bologna. All'alba di questa mattina hanno tentato l'ennesimo furto, hanno notato un furgone parcheggiato in un'area di servizio all'uscita del casello autostradale di San Giovanni Valdarno. Dopo averlo forzato hanno trafogato trapani, avvitatori e altro materiale da cantiere caricando tutto sul furgone e poi fuggendo in A1. Ma il proprietario che si stava gustando un caffè si è accorto del fatto e ha immediatamente contattato le forze dell'ordine che hanno fatto scattare il dispositivo di controllo a reticolo. Il furgone è stato intercettato a Calenzano e da lì è iniziato l'inseguimento durante il quale i malviventi hanno anche speronato i poliziotti. La fuga si è conclusa a Barberino del Mugello, circa 20 chilometri più a nord presso l'area di servizio Aglio Est. Lì i malfattori hanno cercato di dileguarsi a piedi ma sono stati placati dai poliziotti della sottosezione di Firenze Nord. I tre dovranno rispondere di furto. Uno di loro ha anche accusato un malore ma da careggi lo hanno dimesso poco dopo.